sono contento che sta facendo tanti gol è meglio per noi e per tutti che li faccia più fa gol più magari riusciamo a vincere meglio così io se faccio un assist e un gol per me la stessa cosa certo un gol alla latina mi farebbe piacere ma sì ci penso ci pensiamo che magari avversario ha più timore a inizio campionato non era così ora le squadre ci affrontano in modo diverso si chiudono un po un po di più hanno un po più di modo di timore ma è giusto perché la classifica è importante dalla nostra parte noi dobbiamo sempre mantenere il nostro atteggiamento non dobbiamo non dobbiamo snaturarci dobbiamo sempre essere aggressivi come ci crede il mister ma sono una squadra innanzitutto che ha bisogno di punti e gioca in casa quindi sarà una battaglia e lo sappiamo sappiamo anche che arriva diciamo la sosta quindi non dobbiamo sentirsi appagati dobbiamo fare una grande partita sono tre finali per noi prima della sosta quindi andiamo in un campo difficile e la prepariamo come una finale e vogliamo vincere non ho una preferenza cioè mi trovo bene le due le parti certo ho notato che magari quando gioco più vicino a budimir sono più vicino alla porta quindi magari più possibilità di arrivare al tiro e di far gol però quello dipende comunque sia da quello che mi chiede il mister e dal tipo di lavoro che vogliamo fare però per me non c'è nessun problema e sono contento di fare tutti e due i ruoli diciamo che noi non guardiamo l'avversario guardiamo 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 noi e guardiamo che ogni partita deve essere preparata al 100 per cento se no troviamo difficoltà quindi sei latina il cesena il caiari sarà per noi sempre una battaglia ed è questa la nostra forza dobbiamo preparare tutte le partite umilmente e questo ci ha portato ad arrivare a questo punto ma noi capiamo anche durante gli allenamenti lo possiamo vedere perché sono allenamenti fatti bene allenamenti che ti permettono poi di portare in partita un'intensità alta e questo gioco noi abbiamo tutti i giorni che siamo una bella squadra un bel gruppo e siamo possiamo far bene